Con la decisione del governo sulle accise per i carburanti da questo giovedì 1 dicembre lo sconto sulla benzina e il gasolio passa da 0,25 per litro a 0,15 mentre per il GPL da 0,085 euro per chilogrammo a 0,051. Aggiungendo l'IVA al 22% si arriva ai 12,2 centesimi al litro in più per benzina e diesel e a 2,3 centesimi al litro in più per il GPL. L'aumento è figlio del decreto accise con cui il 23 novembre scorso il governo Meloni ha compresso lo sconto introdotto dall'esecutivo guidato da Mario Draghi. Sospendere lo sconto al ridosso di Natale è un grave errore sostiene Marco Princi, presidente regionale della Federazione Autonomia Benzinai di Confesercenti. Il rischio secondo l'associazione è di generare rialzi inflattivi dei prezzi delle merci con conseguenze negative sui consumi che peseranno sulle feste natalizie. I gestori delle pompe inoltre denunciano di non aver ancora ricevuto nonostante le pressanti richieste il rimborso del taglio dei 30 centesimi delle accise sul carburante che avevano in giacenza il 22 marzo scorso, giorno in cui furono abbassate dal governo Draghi.